buongiorno amici di digital store network benvenuti su planet digital la consueta rubrica dedicata alle novità del nostro network oggi vi diamo degli aggiornamenti importanti che riguardano la campagna promozionale della nuova hit dance mix d'amore interpretata e scritta da michela vazzana con la featuring del noto dj guido arcangeli quali sono gli aggiornamenti che vogliamo darvi vogliamo ricordarvi innanzitutto dove potete effettuare il download gratuito del pacchetto che contiene play base e testo lo potete fare direttamente sul sito del dj guido arcangeli vedete qui nella home page cliccate su mix d'amore e diamo un'occhiata anche a quanti download sono stati effettuati dal giorno 29 06 quindi parliamo di circa 11 giorni guardate amici sono tantissimi download effettuati effettivamente guido ha un seguito enorme parliamo di 319 play scaricati 125 basi 98 testi quindi un risultato eclatante ma non poteva essere altrimenti per questo pezzo fantastico del quale potete ammirare anche il video promo direttamente sul sito di guido arcangeli potete trovare lo stesso tipo di brano anche nella sezione all star dj brani gratuiti nel nostro sito c'è www.digitalstonetwork.it cliccate su leggi tutto entrate nell'articolo potete ovviamente vedere il video leggere delle notizie sul brano e andare a scaricare gratuitamente base play e testo del brano ci sono altre novità molto importanti per coloro che compilano il borderoo online quali sono molto semplici andate nella vostra sezione borderoo online e da oggi potete trovare il brano online non perché prima non fosse stato depositato era già depositato era già conferito nel portale conferimenti 6 quindi riconoscibile nel caso di campionamento anonimo ma oggi è disponibile se andate a provare inserirlo in una playlist vogliamo provare a farlo insieme benissimo andiamo ad aggiungere mix d'amore a una playlist che ho chiamato all star dj 2019 aggiungi brano vedete si va a cercare il brano nome brano compositore e qui l'ho già fatto mix d'amore compositori dona soldi guido che in realtà è il cognome e il nome di dj guido arcangeli attenzione non scrivete guido arcangeli perché è un nome d'arte scrivete dona soldi ok questo è il cognome di battesimo di guido arcangeli che si chiama in realtà guido dona soldi guido arcangeli lo ripeto è un nome d'arte oppure potete scrivere vazzana oppure potete scrivere lamberti aggiungiamo questo brano a questa playlist ovviamente una playlist che ho creato semplicemente per scopi didattici e a questo punto come vedete il brano si è aggiunto alla mia playlist quindi quando programmate online da oggi lo potete trovare agevolmente e ovviamente potete includervelo nelle vostre playlist con questo è tutto io naturalmente vi invito ad ascoltare a scaricare a programmare a utilizzare il brano anche in modalità live non solo ma fra breve saranno disponibili su entrambi i siti le versioni karaoke delle basi per coloro che ovviamente hanno dei programmi che leggono i testi sincronizzati in modalità karaoke bene con questo è tutto fra breve anche questa novità cioè la versione karaoke della base sarà disponibile a completare il corredo di questo brano che si sta dimostrando una vera propria hit dance e non solo per quest'estate perché mix d'amore non è un brano estivo non parla di spiagge non parla di mare non è un reggaeton è un dance che potete ballare ancora per molti molti e molti mesi questo ce lo auguriamo sia io che michela vazzana che è l'interprete e una delle compositrici del brano e naturalmente il grande dj guido arcangeli vi saluto di cuore grazie per l'attenzione ci rivediamo alla prossima puntata di planet digital sei un mix d'amore con un tatuaggio da stampatore sei un mix d'amore che mi manda in confusione il cuore do you understand 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 say you need some more Do you understand? Dario mi d'amore Do you understand? Bello è impossibile, io sono persa per te